La crisi sembra ormai alle spalle. La difficile congiuntura internazionale che ha colpito anche e soprattutto le regioni del Mezzogiorno d'Italia sembra essere ormai definitivamente superata. Il turismo registra una significativa ripresa e il Mezzogiorno torna a farla da padrone nel settore che più gli si addice. I numeri sono confortanti per il sud. A chiarirlo è un'indagine effettuata da Federalberghi che spiega come il 48% dei turisti destinati a rimanere in Italia scelga il meridione in un 2015 in cui oltre 30 milioni di italiani si recheranno in ferie. Numeri in leggero aumento rispetto ai 26,8 milioni del 2013 e ai 28 milioni dello scorso anno. E il 10% dei vacanzieri punterà la nostra regione. Una nota positiva sebbene i flussi per Sicilia, Sardegna e Puglia rimangano decisamente superiori. Ciò non si tramuta sempre però in reddito per gli operatori commerciali. Il sommerso la fa ancora da padrone secondo Federalberghi dato confermato se si pensa che solo il 24,5% dei turisti predilige strutture alberghiere a fronte del 27% dello scorso anno. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS